Roberto Zappa è il nuovo presidente dei metalmeccanici di Confindustria Bergamo, lo abbiamo incontrato. Il servizio. Per numero di aziende e di addetti, il gruppo metalmeccanici di Confindustria Bergamo è il più rappresentativo nella realtà orobica e tra i più significativi a livello nazionale dopo Milano e Torino. Il gruppo ha da ieri una nuova guida, è Roberto Zappa, presidente della Sematic. Tra le sue intenzioni potenziare l'export, settore che nonostante il periodo prolungato di crisi, ha tenuto. Il lavoro continua a essere scarso, fortunatamente come si diceva l'export aiuta molto, però per aiutare l'export bisogna che le aziende si attrezzino con tutto ciò che serve in termini di sviluppo dei prodotti, di competitività legata alla fine all'innovazione, alla formazione. Quindi il gruppo, quello che vorrei fare col gruppo, uno è formare un gruppo molto coeso, quindi un gruppo di lavoro, un gruppo che lavori. Fatto questo, vedremo, ci troviamo, discutiamo. Grazie.